Ciao ragazzi, sono Giuseppe e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio parlare del pre-partita e pronostico di Juventus-Veona, partita parevole per la quarta giornata di campionato. Allora, innanzitutto Juventus-Veona per me finisce 2-1 per la Juve, con il gol di Di Carmine nel Verona, poi viene il gol di Ronaldo e Di Bara nella Juventus. Vittoria e rimonta, secondo me oggi, sarà tosta e sarà una vittoria e rimonta, non facile. Diciamo che è una partita non facile. Formazione della Juve. Buffoni in volta, difesa. Difesa 4, con Danilo, tettino destro, Alessandro a sinistra, Bonucci dei Mirari centrali. Centocampo, Ramsey, Betancourt e Matuidi. In attacco tridente, Quadrado, Di Bara e Ronaldo. Un grande attacco e un gran centocampo. Complimenti ragazzi. Dai, adesso bisogna solo vincere questa partita. Giochiamoci ancora a cazzimma, perché a Madrid non mi è piaciuto prendere due gol così. E oggi devo prendere zero gol. Cerchiamo di prendere zero gol e farne almeno uno o due. Dai, almeno uno, zero, due, zero. Si sta anche bene. Dai, con questo è tutto. Vi auguro una buona partita. Fino alla fine. Forza Juventus. Ciao ragazzi.